salve ragazzi bentornati in un nuovo video oggi tenterò di stilare la tier list per quanto riguarda il meta di ottobre i mazzi sono più o meno gli stessi di quelli di settembre iniziamo subito allora burning abyss rogue è la versione con i pick up è quella più performante se lo considero solo burning abyss puro lo metterei anche in everything else però attualmente non metto rogue in attesa dei nuovi supporti pick up che potranno magari farlo salire a t2 nel nel pro nella prossima tier list monarch everything else nonostante panteisma 3 quindi il mazzo sia un po più solido e nonostante venga giocato molto il mazzo comunque brica troppo veramente troppo e anche se è divertente un mazzo storico però rimane attualmente un for fun infernoble t1 perché se non gli si interrompe la combo tira giù una board che è enorme se la si interrompe fa fatica a ripartire quindi tra un t1 e un t2 diciamo t1 e mezzo ma mettiamo t1 frog everything else la totali è una signora carta ma non basta perché fa un mazzo poi hero hero rogue perché un po come per il mazzo frog dark low è una signora carta attualmente darebbe fastidio a molti mazzi specie a burning abyss però il mazzo fa qualche cosa caruccia ma non è niente di eccesso stessa cosa per alter guest ma aspettavo di più dopo la banner di settembre comunque a multi figure a 3 il deck un control super costoso ma non rende abbastanza thunder dragon non è cambiato di una viscola dalla tier list di settembre sub terror numeron è un signor deck quindi lo metto t2 ha riuscito anche a fare qualche top ci sta t2 goki everything else abc con il boss monster sbloccato riesce a fare le combo sbagliate mina mistica everything else eldrich eldrich da solo va andrebbe messo forse rogue però dato che viene sempre mescolato attualmente abbastanza corte metto t1 ad amanti a rogue perché ho visto qualche nuova lista ma non mi convince molto comunque potrebbe riserva qualche sorpresa lo metto per un momento rogue dogmatica t1 orkust rogue dogmatica beh non c'è sta bisogno di spiegazioni neanche per orkust maju è un for fan salamagna è un buon t1 e mezzo t2 sta qua più o meno il mazzo comunque rimane abbastanza solito lo metto forse un gradino sotto infernoble lo metto t2 perché non se la combatte con quelli là sopra sono più forti comunque riesce a fare un bel po di top ai local quindi non male dragon link t1 vengono sai dati nibiru e roba varia per lui nibiru troll eccetera per lui perché se no ti ragiona board catastrofica ma dolce ma dolce rogue il deck è buono è una noia giocacce contro però effettivamente è buono sky striker t2 perché ha rincominciato a far top dino t1 zodiac zodiac non so se è rogue o everything else sinceramente non lo vedo più giocato quindi lo metto attualmente in everything else però mi sa che sta in attesa di qualcosa di caruccio questo è il meme che coronavirus dipende se usate la mascherina se non la usate se usate tutte le protezioni sta in everything else se non ci avete la mucchina sta in rogue se non ci avete gli occhiali sta in t2 se ci avete solo la mascherina pure sta in t2 e se non portate niente e andate in mezzo agli appestati sta in t1 forse elvich lo metterei t1 e mezzo secondo me i mazzi sopra sono più forti dino la scorsa volta l'ho messo in t1 e mezzo però si è rivelato veramente forte fa un sacco di top è veramente tanto presente nelle top 8 top 16 arrivano anche 5-6 mazzi dino a volta quindi t1 assoluto t1 anche dragon link è sbagliato dogmatica anche t1 e mezzo loro due ho fatto scendere rispetto all'altra volta elvich perché lo vedo meno performante infernoble è rimasto come l'altra volta saramagna subterror e skystriker t2 e skystriker è veramente amato come mazzo e questo un po' mi preoccupa perché a me non mi piace moltissimo skystriker roggo loro dante burning habits è in attesa di supporti hero non ne ha per compete con gli altri sopra alter guest neanche abc pure stesso discorso di quelli prima thunder dragon anche adamantia potrei anche metterlo t2 perché qualche decklist è performante attualmente cioè il mazzo non è stato abbandonato però lo lascio rog in attesa di sviluppi ma dolce sta qua e gli altri everything else bene per il video è tutto se il video vi è piaciuto lascia un like iscriviti al canale ci vediamo alla prossima